Finsoft, consulenze innovative e soluzioni intuitive dal 1983. Finsoft opera sul mercato italiano come società di consulenza nei settori automotive, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, bancario e finanza, ferroviario. Il lavoro di squadra e le competenze maturate dagli oltre 300 specialisti di cui dispone Finsoft sono le forze che permettono all'azienda di fornire servizi di consulenza integrata con solide basi di esperienza multidisciplinare. La Finsoft è in grado di erogare ai propri clienti i servizi mediante le seguenti quattro aree di competenza. Sviluppo software, controllo qualità, assistenza hardware e software, formazione. L'azienda dispone di tre sedi, a Torino, a Milano e a Bologna, per garantire una copertura del territorio nazionale senza limiti. Consultate il sito www.finsoft.it Finsoft, costruire insieme soluzioni e servizi che generano valore per i clienti.